ok allora come promesso rispondo alle domande quindi le guardo direttamente da qua sono veramente un bordello quindi non sarà un video corto allora ho deciso di fare periodicamente questa cosa qua quindi ragazzi metterò fuori questa cosa delle domande una tantum e quindi seguitemi non lo lascerò fuori tantissimo non lascerò fuori circa 7 8 ore se non semplicemente la lista diventa infinita allora vi cito per nome ecco di sapete che mi riferisco a voi purtroppo ragazzi io non vi so dire quando è che comparite nel video semplicemente perché siete stati veramente in tanti e questa cosa mi fa piacere però ecco nemmeno voi sapete quando potete essere nel video perché non sapete se qualcuno aveva fatto qualche domanda prima di voi quindi va bene andiamo avanti allora tommidea01 mi fa come curare tendiniti alle dita allora il problema principale come l'ho detto mille volte è che le tendiniti non è che hanno una causa diretta cioè faccio un esercizio mi viene una tendinite sono sempre problematiche da sovraccarico quindi significa voi che state voi state semplicemente sottoponendo le alcune strutture muscolari e tendine per un volume una frequenza un'intensità che è eccessiva rispetto a quelle che sono le vostre capacità e quindi non gli state detto tempo di recuperare quindi per curare le tendiniti sicuramente dovete capire a cosa dovuta la tendinite ci sono i tessuti che sono troppo adesi e c'è un livello di forza di base che non è sufficiente state utilizzando un programma di allenamento che è smisurato rispetto a quelle che sono le vostre capacità quindi il mio consiglio è cosa numero uno eliminare tutti gli esercizi che vi danno problemi temporaneamente o eseguirli a intensità talmente basse o sufficientemente basse che impediscano di creare fastidio lavorare sull'esercizio dei tessuti fino a quando il dolore non scompare nelle attività quotidiane aumentare la difficoltà degli esercizi che prima facevate e non vi davano fastidio in modo da avvicinarvi progressivamente all'intensità di quello che facevate prima però ci vorrà del tempo la seconda cali nimi underscore sv come si condizionano i tendini per il ted allora il discorso è se ti vengono fuori i problemi ai gomiti se ti vengono fuori problemi ai gomiti è molto probabilmente perché il muscolo non è ancora pronto per fare quel tipo di lavoro e quindi semplicemente stai correndo troppo come ho già accennato mille volte non è che c'è un esercizio che condiziona un certo settore muscolo tendineo una certa zona ma è un protocollo di lavoro quindi significa che tutto il lavoro di avvicinamento che tu hai fatto finora per arrivare ad allenare il ted non è sufficiente ti serve un lavoro di base più prolungato quindi devi aumentare la forza generale della muscolatura dei tricipiti se si infiamma i tricipiti magari fare del lavoro specifico con le loop band con dei piccoli pesi può essere sicuramente una mano alessandro carabetta differenza tra mobilità e flessibilità allora nel gergo puramente teorico mobilità articolare è definito come il range articolare massimo che tu puoi esplorare in base a quelle che sono le tue caratteristiche conformazionali dell'articolazione quindi è puramente una cosa legata all'eredità ed è un concetto teorico la flessibilità è difficile capire di quanto si discosta molto spesso è un concetto più legato a l'elasticità muscolare l'elasticità muscolare può non necessariamente essere rappresentare al massimo della sua espressione quella che è la mobilità articolare perché se la tua spalla potenzialmente può arrivare fino a qua però la tua elasticità la tua flessibilità dei tessuti ti permette di arrivare qua ecco che allora la tua flessibilità in con il range di movimento e la tua mobilità articolare si discostano non si sovrappongono quindi mentre la mobilità identifica un range di movimento ereditato ok che è il massimo che tu puoi sviluppare la flessibilità diciamo che può essere considerata come la rigidità dei tuoi tessuti va a influenzare il range di mobilità articolare che tu puoi esplorare vedila così poi la cosa ovviamente può essere sviluppata ulteriormente a livello teorico o a livello di concetti filippo men usi qualche tipo di progressione seria con i tuoi allievi per le trazioni allora dipende dal loro livello nel senso che se sono persone nuove quello che mi interessa è colmare i punti deboli se ci sono le asimmetrie e quindi dipende dal loro livello se sono base base e mi concentro principalmente sui rematori utilizzo generalmente le progressioni lineari quindi aumento di serie ripetizioni nel tempo lo stesso tipo solo che è su un range diverso tipo le 10 15 se sono più forti lavorano magari nel range tra 6 però utilizzo sempre un lavoro lineare poi se uno vuole aumentare invece la forza nelle zavorrate lì ci sono tanti metodi di lavoro e quindi in realtà non è che c'è una definizione universale di progressione che si utilizza perché dipende dal tipo di metodo che stai utilizzando puoi utilizzare i mav puoi usare i 5 3 1 puoi utilizzare i 5 per 5 poi puoi utilizzare tanti altri metodi dipende da quello che utilizzi non c'è una risposta univoca tommy underscore sv l'allenamento agli anelli quanto transfer da per parallele terra allora casomai direi il contrario sarebbe più utile capire quanto transferti da lavoro a terra sugli anelli ed ha senso parlare in questi termini perché lavoro agli anelli è molto più stressante a livello della cuffia e anche a livello dei gomiti quindi non andrebbe approcciato per migliorare una condizione a terra che è più facilitante ma piuttosto il contrario sviluppando forza a terra preparo i tessuti per lavorare sugli anelli e il lavoro a terra almeno nei muscoli motori principali e negli schemi motori ti dà un minimo di transfert sul lavoro agli anelli poi gli anelli sono un attrezzo instabile e quindi visto che gli adattamenti sono sempre specifici tu diventi forte per quello che fai sugli anelli quello è il discorso quindi per esempio la plancia agli anelli ha molto un componente di equilibrio più importante rispetto al lavoro a terra però ti cambi anche quello che è la disposizione del braccio quindi ti direi che potrebbe esserci una correlazione tra plancia supina a terra e agli anelli però io non vedrei mai il ragionamento in questi termini cioè non ha senso dire mi alleno sugli anelli per avere transfert a terra perché la preparazione che ti serve per andare sugli anelli è maggiore rispetto a quello che ti serve a terra quindi il rischio sarebbe semplicemente quello di incorrere in infortuni inutili e che dopo ti trascini dietro per una vita mirko gajon gajon infortunio ginocchio è come rinforzare la muscolatura dello stesso ma dipende dal tipo di infortunio cioè ci sono tante problematiche al ginocchio c'è per esempio la sindrome della bandoletta eliotibiale c'è la zampa d'occa ci sono i menischi tendini rotuleo cioè dipende dal problema e poi nella maggior parte dei casi le problematiche al ginocchio dipendono da squilibri che ci sono a livello del bacino cioè se tu per esempio hai la muscolatura degli adduttori biarticolari tipo il gracile che è molto corta e lo vedi perché fai fatica a fare una spaccata generalmente si genera del varismo quindi ci sarà più sofferenza del ginocchio da una parte dall'altra se invece c'è la muscolatura opposta che tende a essere molto forte si tende a generare del valgismo poi ci può essere una maggiore rotazione interna una maggiore rotazione esterna del femore una maggiore estensione dei fianchi una maggiore flessione dei fianchi cioè se hai problemi nel ginocchio a meno che non ci sia stato un trauma diretto come caderci sopra assorbimento di un carico pesante tipo uno squat che viene decelerato di brutto e vedi cende quindi magari un trauma diretto dovuto al congiungimento del ginocchio se è una cosa che si perpetua nel tempo come per esempio un infortunio che può essere dovuto alla corsa dove di per sé il carico è relativamente importante rispetto per esempio uno squat di 180 kg io ti consiglio di vedere se hai problematiche o squilibri a livello del bacino oppure rispetto alla caviglia e per valutare eventualmente come la posizione di appoggio però in ogni caso dipende dall'infortunio l'ideale sarebbe farsi dare un'occhiata andrea capuzzo l'articolazione della spalla debole consigli per rinforzarla allora debole è una cosa generale nel senso che una spalla che fa male non necessariamente è una spalla debole mi spiego tu puoi avere anche i muscoli rotatori esterni più forti del mondo quindi potenzialmente la spalla è sufficientemente forte da essere stabilizzata cosa succede che i rotatori esterni possono portare a una rigidità della capsula posteriore della spalla questa può influire sul range di movimento dell'omero a livello tridimensionale all'interno della glena se è alterato la cinematica dell'omero ci possono essere alcuni range di movimento che comportano dolore ma allora non è che la spalla ti causa dolore perché è debole la spalla potenzialmente è forte per essere stabilizzata è che c'è uno squilibrio quindi nella maggior parte dei casi se la spalla effettivamente è dolente perché è debole l'ideale sarebbe che un fisioterapista ti facessi dei test di grading di forza per capire se hai debolezze lungo certo range di movimento rispetto a un altro è ovvio che se mi fai un'extra rotazione con mezzo chilo ti dà fastidio e non riesci neanche a farti vengono i crampi dopo tre ripetizioni probabilmente il problema è lì e se fai anche il lavoro antagonista la controparte antagonista con i rotatori interni invece riesci a spingere a spostare 20 kg c'è uno squilibrio di forza quindi bisogna capire che cosa si intende per spalla debole oppure se la spalla è instabile che è una cosa diversa contare macro calorie claudio tassa allora io nel percorso di ricomposizione che ho fatto ho contato i macronutrienti e anche le calorie alla fin fine anche se si dice che per certi versi è un aspetto superato c'è poco da fare siamo delle macchine energetiche per chi ha studiato un pochino di termodinamica alla fine se tu bruci più di quello che butti dentro dimagrisci se tu bruci di meno di quello che butti dentro tendi a aumentare il peso se bruci quello che butti dentro tendi a rimanere uguale quindi man mano che una persona va avanti e diventa esperta rimane più connesso al concetto di quantità ma perché si abitua non è che sta a pesare 100 grammi di riso sa che un bicchiere 100 grammi non sono 5 grammi in più 10 grammi in più che ti fanno la differenza la differenza è se inizi ad avere 50 grammi di riso in più ad ogni passo tutti i giorni della settimana e comunque ad ogni modo io i macronutrienti e le calorie le conto migliorare l'attivazione del dorsale in planche allora per migliorare l'attivazione del dorsale in planche purtroppo ragazzi miei si tratta di imparare uno schema motorio ok quindi nel momento in cui voi fate l'attack planche fate l'advanced attack planche fate la divaricata tutte quelle cose lì l'attivazione del dorsale dovrebbe essere già una cosa che viene data per la sua data quindi se voi non lo sapete fare è perché non è che siete scemi ok tra l'altro questa è una domanda di alfredo mascaro non è che siete scemi è semplicemente che il vostro cervello non lo sa fare non l'ha mai imparato perché molti pensano solo che sia a vabbè è tanto forza e basta è forza ma secondo voi che cos'è la forza state semplicemente educando il vostro sistema nervoso e il vostro cervello a fare bene una cosa quindi se voi gli insegnate che cos'è la depressione sa farla se no non lo sa fare mica e l'unico modo per insegnarla è partire da condizioni facilitanti quindi dovete assicurarvi semplicemente di saperla mantenere in condizioni più facilitanti come in quadrupedia come in un plank sulla ginocchia come in un plank sui gomiti un plank a braccia tese un plank sbilanciato ma se non lo sapete fare lì è impossibile che sapete farlo su movimenti più complessi poi è logico che se c'è una condizione delle spalle come per esempio una scapola che è fortemente in tilt anteriore oppure se c'è la parte del trapezio alto e dell'elevatore della scapola molto rigidi sarà più difficile deprimere le spalle in plank quindi provate ad accertarvi di non avere delle limitazioni che si oppongono al movimento di depressione se avete un posizionamento della scapola che non favorisce la depressione se invece tutto questo è buono preoccupatevi di andare a lavorare su schemi più semplici dove l'attivazione è semplice e riuscite ad insegnarla al cervello in modo più graduale ma più efficace Michele Brionna come riuscite ad allenare bene le skill e le zavore senza correre il rischio di infortunarsi penso che sia un riuscire ma in realtà il discorso è non avere fretta e utilizzare uno un'intensità che sia adeguata un volume di allenamento che sia adeguato una frequenza che sia adeguata per esempio un principiante che se lena da un anno un anno e mezzo se si va a vedere quello che suggeriscono verkozanski zatrioski che sono un po' i luminari dell'allenamento per la forza loro fanno ben notare quindi dove un principiante per sviluppare forza possa tranquillamente lavorare sugli 8 10 rm quindi 8 10 ripetizioni non ha bisogno di lavorare sulle 3 4 ripetizioni quindi se sei un principiante e ti metti a fare zavorre lavorando sulle 3 4 ripetizioni l'unica cosa l'unico rischio in cui incorri è quello di infortunarti ok quindi molto semplicemente adatti il protocollo che fai in base al tuo livello e poi più sei avanzato più devi avere una linea guida per modulare l'intensità e gli altri parametri di allenamento ma se non lo sai fare semplicemente affidati a qualcuno che è in grado di farlo che ha sufficiente esperienza e conoscenza per poterlo fare ok quello è il discorso poi in base al tuo livello ci sta le settimane di scarico bisogna allenarsi con una certa didattica e permettere ai tessuti connettiviti ad adattarsi cioè è veramente uno universo di concetti estremamente ampio infinito ma molto spesso se l'allenamento è basato sull'autovalutazione è molto meglio affidarsi a qualcuno che questa valutazione sa farla con un po più di criterio matteo denisco sarebbe bello un video traduttivo sul tema agli anelli allora consiglio banale che ti do io per il tema agli anelli il tema agli anelli prevede una cosa fondamentale salire dritti ok quindi il concetto di buttarsi in mezzo agli anelli è completamente superato per non buttarsi in mezzo agli anelli tu devi simulare la condizione in cui c'è qualcosa che ti impedisce di farlo e un aiuto indiretto ti viene dato dai muscle up alla sbarra però non quelli dinamici quelli fatti di forza quelli fatti lenti quindi se sviluppi muscle up lenti alla sbarra cercando di salire più dritto possibile il muscle up temo agli anelli diventerà molto più facile matteo denisco tra parentesi andrea gianfico 90 quanto sono importanti le gambe loro allenamento nel calisthenic allora il discorso è piuttosto che le gambe in particolare i glutei gli estensori dell'anca sono molto importanti per riuscire a mantenere un certo tipo di attivazione in alcuni distretti dove per esempio si vuole evitare di accentuare l'estensione dell'anca utilizzando i lombari come per esempio nella planche nella rondine nella verticale in tanti altri movimenti poi è logico che gambe è un concetto un po generale io mi soffermerei un po di più sul bacino nel senso che ci sono molti muscoli biarticolari come per esempio il retto del femore che è utilissimo in tutti quei movimenti che coinvolgono la flessione dell'anca quindi l'esecuzione della squadra quindi vuoi imparare una visita umana devi allenare il retto del femore che banalmente non è che lo alleni facendo lo squat ok ma facendo per esempio le chiusure alla spaliera un'altra cosa che io ho notato e che magari viene sottovalutata è il fatto che nello sviluppo della planche quando bisogna allenare il medio gluteo i piriforme per la divaricata o per una mezza completa chi non ha le gambe che non hanno un livello di forza base tende a spostare il lavoro da quelli che dovrebbero essere i muscoli motori principali come per esempio il medio gluteo a muscoli accessori come gli otturatori come il piriforme e questo può andare a creare dei fastidi e associabili quasi alla sciatalgia e in quel caso almeno io in collaborazione con un fisioterapista ho visto che un rinforzo generale delle gambe quindi per esempio gli affondi un po di stacchi è stato un modo l'unico modo per risolvere il problema quindi dal mio punto di vista un po di lavoro di base di forza per le gambe è una cosa utile perché non necessariamente l'allenare le gambe corrisponde ad ipertrofizzarle che può essere una cosa controproducente però avere un buon livello di forza che poi vi permette anche di raggiungere livelli di flessibilità superiore è utile per creare progressioni intermedia come per esempio passare da una trazione normale a una più difficile passando dalle trazioni in squadra le trazioni in squadra prevedono di riuscire a tenere i ginocchi in estensione quindi quadricipiti di mantenere l'anca flessa quindi il retto del femore e di mantenere tutta la catena dietro allungata la catena dietro allungata tendenzialmente più facile allungarla se anche i muscoli più forti quindi un pochino tutto torna ok brian fada eccessiva attivazione conseguenze ipertrofia del trapezio superiore allora il problema del trapezio superiore avviene quando c'è un'atro cinematica della spalla che non è buona cosa vuol dire un'atro cinematica della spalla che non è buona che sostanzialmente quando tu per esempio alzi il braccio così la prima cosa che dovrebbe succedere è che la cuffia deve stabilizzare la testa dell'omero all'interno della glena quando questo succede deltoide si attiva correttamente e agisce principalmente come muscolo motore di quella che è l'elevazione dell'omero ok se questo non succede intervengono altri muscoli a scapito del deltoide e questo infatti lo si può notare in tutte quelle persone che nel fare l'allenamento delle alzate laterali sviluppano moltissimo il trapezio e sviluppano pochissimo il deltoide quindi va valutata quella che è la cinematica della spalla vedere se c'è un posizionamento della scapola e un posizionamento dell'omero che è corretto se ci sono degli squilibri andare a colmarli e solo a quel punto vedrai che il trapezio lavora di meno e lavora maggiormente la spalla se potessi o simo galla se potessi spiegare come allenare correttamente grandentato rotondo protazione attenzione delle scapole allora se tu vai sul mio sito c'è la guida per principianti del calisthenic nella parte introduttiva per la planche viene spiegato vengono date degli esercizi per allenare e capire i movimenti di adduzione e abduzione che è protrazione e retrazione elevazione e depressione combinali tra di loro se poi vai sul mio canale youtube e ci scrivi esercizio grandentato sul mio canale youtube ti viene fuori quello che secondo me è l'esercizio ideale e mettendo insieme questo esercizio con quello della mia guida per principianti che trovi sul mio sito www.alessandromente.it è un allenamento completo per il dentato martino benedetto come allenare la zavorra senza allenare la forza senza zavorre arrivati ad un buon livello di basi come variare gli stimoli ma in realtà se tu non vuoi utilizzare la zavorra devi cercare di capire quali sono i muscoli che intervengono e poi in una condizione biomeccanicamente più difficile ok quindi una volta che tu sai fare 10 trazioni normali come posso fare per renderle più difficile prova a mettere le gambe in squadra questo è un modo un altro modo qual è ridurre quelli che sono gli effetti facilitanti domanda di martino benedetto tra parentesi ridurre quelli che sono le condizioni facilitanti quindi per esempio aumento il fermo in basso in modo da ridurre l'effetto il riflesso da stiramento oppure metto un fermo a metà via oppure metto un fermo in alto oppure cerco di fare la salita più veloce un altro modo allargare la presa e quando ho allargato la presa magari metto le gambe in squadra ok e da lì per esempio puoi sviluppare tutta una serie di concetti che ti permettono di rendere l'esercizio più difficile poi un'altra cosa per esempio è fare la fune la fune è una transizione del movimento a due braccia con lo stesso posizionamento con la stessa leva a un lavoro a un monobraccio e quindi anche lì cambia la configurazione biomeccanica dell'esercizio e lo rende più difficile normalmente facendo una stima tutte le persone che con me completano il lavoro di avvicinamento alla trazione a un braccio riescano all'incirca a fare una trazione con il 50 60 per cento del peso corporeo aggiunto senza aver mai toccato le zavore tra l'altro al simposio di calistenic che ci sarà quest'anno a riccione parlerò di un metodo di lavoro che io ho elaborato con mattia tugnoli che ne approfitto per salutare ciao mattia con il quale abbiamo portato un ragazzo che faceva all'incirca 42 43 chili di trazione zavorrata e al peso di 65 chili abbiamo portato in 14 settimane a fare una trazione con 63 chili quindi più di 20 chili su una persona già forte perché prima sapeva già fare le trazioni un braccio e quindi per chi c'è avrà delle belle sorprese viaggio mazzone migliori esercizi per il grande intatto come quando andrebbero allenati in uno vizio allora ho già risposto a questa domanda nella domanda di simo galla in realtà non è che vanno allenati in uno vizio è che una delle cose principali che faccio io quando lavoro con una persona nuova è valutare la mobilità delle spalle se ci sono delle limitazioni e molto spesso dove ci sono delle limitazioni è perché alcuni muscoli tirano troppo e altri sono troppo deboli quindi se c'è la necessità si fa ma se non c'è non è necessario per forza farla ogni ogni caso va valutato nel singolo ok viaggio mazzone le scrollate sopra la testa sono un ottimo esercizio per il grandentato e per forza ipertrofia ma per il grandentato no perché ci devono essere delle altre condizioni e preesistenti il mio consiglio è che per questi muscoli come grandentato non devi focalizzarti sull'ipertrofia perché sono muscoli stabilizzatori non hanno fibre bianche è molto più probabile che abbiano fibre intermedie o addirittura fibre rosse che sono atte a produrre un effetto di stabilizzazione lungo nel tempo duraturo e non sono abituati a esprimere forza tanta forza in un lasso di tempo molto breve quindi non avrebbe senso allenarle in ottica di forza ipertrofia vanno semplicemente allenati perché nel 90 per cento delle persone sono deboli davide mattei facci vedere come si struttura una scheda di allenamento allora il problema di una domanda come questa è che praticamente mi stai chiedendo di fare una consulenza cioè prima è una cosa personale perché dipende da quello che è il tuo livello non c'è una cosa uguale per tutti se dovessi dati delle indicazioni su come io strutturo una scheda di allenamento per quanto riguarda il calisthenic vai sul mio sito che c'è la guida per principianti e quella è la struttura base che viene mantenuta quindi c'è un lavoro per la planche uno per i front lever uno per la parte di spinta e di tirate spinta braccia flesse tirata braccia flesse un lavoro per la per lavoro per in manna un lavoro per la bandiera un lavoro per la verticale e solitamente io faccio fare le gambe però se uno può fare stacchi e squat è già sufficiente tutti questi lavori qua vengono fatti due volte alla settimana e basta niente di più niente di meno il 99 per cento dei risultati io li ho fatti ottenere così sia nei più nelle persone che avevano un po più bisogno di lavorare sia in quelli più forti ok quindi in realtà non è che ci sono tanti segreti se non teni da dieci anni non devi andare a pensare a metodi astrali quello che funziona sono le cose semplici ok quello discorso leo angio underscote sv o la verticale dritta al muro ma come la provo libera ho il vizio di ruotare il bacino verso destra allora il problema di ruotare il bacino è che tu purtroppo non te ne accoggi perché perché il muro ti permette di scaricare questa simmetria quindi il mio consiglio è piuttosto fare dei test di forza di scusate di allungamento o andare da un fisioterapista che ti dica dove effettivamente c'è lo squilibrio e una volta che l'hai trovato intanto cercare di di correggerlo e sicuramente invece di provare direttamente la verticale al muro provare delle piccole transizioni alla verticale libera che ti permettono di controllare un'eventuale rotazione il problema è che se lo schema della rotazione è già stato memorizzato a livello del sistema nervoso l'unica cosa che tu puoi fare è avere una persona che ti corregge e che ti faccia capire le sensazioni giuste che tu devi avere quando tendenzialmente devi correggere questo tipo di movimento in modo da memorizzare quelli che sono gli stimoli giusti dopo cercare di metterli in pratica in modo automatico tra l'altro io ho fatto un videocorso sulla verticale che penso che attualmente in italiano sia l'unica risorsa così completa lo trovi sul mio sito gregorio corciulo un videocorso dove poter ottenere da zero la mobilità a target per poter fare i pack e pancake anche questo videocorso è in programma non posso dire quando lo rilascerò perché non c'è una data ufficiale però c'è anche quello in programma nel frattempo se tu vai sul mio canale youtube e cerchi mobilità femorale mobilità aduttori che bike pancake di varicata frontale puoi trovare una montagna di esercizi tra l'altro quelli che secondo me funzionano meglio per i femorali per gli aduttori c'è scritto nel titolo del sito guida ciuffoli quando faccio stretching devo tenere pose rilassato devo sentire dolore allora anche qua se tu cerchi sul mio canale youtube c'è scritto c'è un video che tratta questa cosa qua del dolore cioè sul mio canale youtube ci sono circa 1400 video e ho parlato di tantissime cose molto spesso basta cercarle quello che si deve cercare è una sensazione intermedia tra il fastidio il dolore come faccio a capire quando il dolore eccessivo perché non puoi controllare la respirazione quando c'è una situazione di emergenza eccessivo stress il corpo va in protezione quindi una delle cose che viene sicuramente influenzata è la respirazione se tu non riesci a fare una respirazione profonda probabilmente la tensione eccessiva quindi tra il fastidio e il dolore controllando la respirazione quello deve essere il punto di riferimento luca boni insegna ciao luca conosci qualche esercizio per migliorare l'utilizzazione dell'aerodosi cervicale e all'esercizio migliore del mondo se sostanzialmente troppo all'interizzata bisogna capire se dipende dalla cervicale dipende da qualcos'altro della postura ti faccio un esempio se tu sei cifolo se tu sei cifotico normalmente la cervicale tenderebbe a seguirla andamento del resto della colonna solo che se la testa seguisse quello che fa la colonna la parte toracica tu guarderesti a terra quindi cosa succede che per evitare di guardare a terra ti ritrovi in questa posizione e aumenti inutilmente l'estensione del tratto cervicale quindi in quel caso lì ha senso dire vado a modificare un adattamento del tratto cervicale ma che non è direttamente legato al tratto cervicale dipende più dalla zona toracica quindi prima andrebbe valutato quello ok quello sostanzialmente il discorso e poi se un adattamento ormai acquisito bisogna allungare quello che lo causa e rinforzare quello che invece tenderebbe a riequilibrarlo giulio manucci serie da una ripetizione con quasi massimale sono utili richiedono un lavoro complementare allora allenarsi ad una ripetizione quasi massimale se sei un principiante non ne hai bisogno per mettere forza puoi lavorare anche rm più alti come ho detto anche in un altro video e in un'altra risposta scusate e il problema è che lavorare sempre una ripetizione a uno stress articolare elevatissimo e oltre a livello articolare stressa moltissimo il sistema nervoso quindi rischi di bruciarti non solo in quella sessione tanto da rendere inefficaci eventuali esercizi complementari ma nel lungo periodo stressa moltissimo quindi il mio consiglio è di non lavorare ad una ripetizione soprattutto se la tecnica non è perfetta perché rischio di compensio di stress articolare inutile o di dispendere l'energia la forza scusa lungo direzioni inutili e su muscoli inutili è molto più elevata lasciamo gli un rm agli atleti avanzati con chi si allena già da diversi anni angelica bigo mobilità delle anche ovviamente per finissettamente calistenici grazie a blu belga ok allora a livello estetamente calistenico quello che ti serve di prendere la skill che vuoi fare se ti servono le divaricate è sufficiente che cerchi sul mio canale youtube migliore esercizio per la divaricata frontale migliore esercizio per gli adduttori se ti serve il pike per fare la vossite le chiusure la spaliera fare una trazione in squadra puoi cercare sempre sul mio canale youtube migliore esercizio per i femorali e lo stesso discorso vale anche per l'estensione dell'anca quindi se ti serve a fare la sagittale li trovi già sul mio canale youtube quello per gli adduttori è quello che si fa con l'appoggio sul bacino per evitare di percepire i corpi in caduta mentre quello per i femorali è quello che va fatto monolateralmente col ginocchio parzialmente flesso e in modo da lavorare gradualmente solo sull'estensione del ginocchio come programmare lorenzo underscore cheat gli allenamenti in una settimana anche qua se vai sul mio sito e guardi com'è strutturata la mia guida di calisteni per i principianti quella è la struttura base che seguo con qualsiasi persona poi le singole variazioni farlo esercizio tre volte farlo due volte fare una volta sola variare l'intensità variare il volume quelle sono corde estrettamente individuali e che non sono uguali per tutti francesco bozzolan un video sulla costocondrite causa rimedi allora sulla costocondrite penso di aver già detto qualcosa è sufficiente che si cerchi sul mio canale youtube il problema è che la costocondrite è un'infiammazione del tessuto fibrocartilogeneo dello sterno i tessuti connettivi quelli fibrocartilogenei sono molto meno irrorati di sangue quindi per guarire e visto che la guarigione dipende dalla quantità di sangue che va in loco perché le sostanze nutritive che permettono anche di creare una risposta di guarigione arrivano tramite il flusso ematico se la zona è poco irrorata siete nella merda sostanzialmente quindi questo è il motivo del perché normalmente le tendiniti ci mettono tanto a guarire non solo i tendini sono poco irrorati ma alcuni tendini alcune zone lo sono ancora di meno come per esempio lo sterno come per esempio la cuffia dei rotatori come per esempio la zona della trochea quindi pitrocleite quindi purtroppo quando sussiste questo problema che è dovuto ad una scorretta programmazione dell'allenamento perché l'intensità è eccessiva e la frequenza è eccessiva e i tessuti non hanno avuto tempo di adattarsi queste sono le cause maggiori l'unico rimedio qual è aspettare che i tessuti guariscano e per quello purtroppo io non ho una tempistica e non ho la bacchetta magica quindi se dovessi farvi la top 3 degli infortuni che vanno avvitati c'è il problema è la cuffia tra cui il capolungo dei bicipite epitrocleite esternocondrite purtroppo ragazzi rimedi io non ho la bacchetta magica cioè tutto quello su cui insisto che è la prevenzione è la chiave per riuscire ad allenarsi in modo continuativo se vedete che vi viene fuori un fastidio con un certo esercizio è perché non siete pronti per farlo ma non c'è niente di male nell'ammettere che non si è pronti per farlo si prende si accantona si fa un percorso graduale di avvicinamento e poi è probabile che quando lo si riprende in mano di problemi non ce ne saranno andiamo su marco padricelli pt è da poco che lì non l'ha gli and send push up liberi va bene fare tre di fila senza controllare la linea dipende qual è lo scopo se il tuo scopo è costruire solamente la forza di spinta verticale e quindi forza brutta diciamo la linea può anche non essere un problema poi successivamente quando devi iniziare a farli liberi magari ha senso anche controllare la linea quindi in ottica progressione ti direi puoi farli schiena al muro e non controllare la linea quando ne fai 5 6 di fila controllati li fai sempre con lo stesso range di movimento pancia al muro dove la linea diventa invece più importante ok quindi inserire progressivamente dettagli in funzione di quello che si vuole sviluppare underscore a alessandro e dopo underscore di nuovo gli and stand push up come mantenere l'equilibrio e quali esercizi per migliorarla ma in realtà non è che c'è un segreto per mantenere l'equilibrio devi semplicemente avere abbastanza forza nel farli quindi prima di fare quelli liberi io ti consiglio di fare quelli full rom al muro e poi devi avere la verticale quello sicuramente non devi avere problemi di linea e non devi avere problemi di mobilità delle spalle perché se durante la spinta verticale il tuo braccio non completa quella che è la flessione scapolo merale è abbastanza banale che le direzioni di spinta non sono ottimali e quindi di conseguenza tu esprimi la forza lungo una direzione che non è quella ideale ti sentirai di dover correggere molto di più l'equilibrio ti sentirai di dover magari spostare le spalle più avanti perché le spalle non sono aperte e i piedi tendono a cadere quindi il mio consiglio è prima cosa mobilità di spalle completa seconda cosa forza di base quindi piegamenti in verticale full rom al muro terza cosa verticale quarta cosa metti insieme tutto giovanni bertolaccini mobilità articolare della caviglia allora io parlo per esperienza io ho le caviglie inchiodate dovuti a infortuni in movimenti tipo partita di calcio infortuni dovute a distorsioni fatte a ginnastica artistica soprattutto negli arrivi nella parte acrobatica e a seguito di tanti traumi io ho provato in tutti i modi a lavorare sulla caviglia ho provato a fare manipolazione che ho fisioterapista tutti i giorni per molto tempo ho provato il pnf ho provato il foam roller ho provato la pistola ho provato il rilascio mio fasciale zero miglioramenti questo perché poi la caviglia tu ci cammini sopra tutti i giorni ok quindi un range di movimento dove io ho visto che si può migliorare il range di movimento che è limitato sulla dorsiflessione è limitato dal tibiale quindi il fatto di poter tirare le punte ok è una cosa che può essere decisamente migliorata molto di più per esempio della capacità di fare il movimento opposto ok quindi portare il ginocchio oltre la punta del piede per quel che riguarda allungamento del tibiale si può migliorare lo migliorato per quel che riguarda la possibilità di portare il ginocchio oltre la punta del piede in dieci anni zero miglioramenti quindi purtroppo questa è la brutta notizia che ti devo dire ok se hai una mobilità ridotta la probabilità che hai di migliorare ulteriormente è molto molto scarsa se più hai avuto tanti infortuni si riduce ulteriormente ma semplicemente perché l'infortunio se non viene recuperato visto che quando sei giovane ti dicono ma si vai continua tanto guarisci in realtà è una cagata non bisognerebbe fare così se tu non recuperi correttamente ad un infortunio tessuto cicatriziale che è poco elastico magari ai tendini più lassi quindi rapporti ossi si alterano leggermente e in un articolazione complessa come quella della caviglia ma come anche quella del polso basta alterare di un millimetro quelli che sono i rapporti articolari che può essere che l'articolazione subisca riduzioni importanti su un range di movimento quindi in realtà lì c'è poco da fare adrian 28 scbr che esercizi posso fare per aumentare la unità toracica in rotazione allora devi sapere che i range di movimento della colonna si influenzano l'uno con l'altro quindi se tu sei mobile in estensione benefici in rotazione se sei mobile anche in inclinazione laterale benefici anche negli altri per migliorare la rotazione devi capire quali sono i muscoli che limitano la rotazione quindi se per esempio c'è una limitazione da parte del dorsale puoi già allungando un pochino il dorsale cercando sul mio canale youtube i migliori esercizi per allungare il dorsale secondo il punto di vista già allungando quello potresti riuscire a migliorare la rotazione poi per il resto e se tu cerchi comunque sul mio canale youtube come migliorare l'ombità della colonna dovrebbe esserci qualcosa sulla rotazione alessio perugini accorgimenti da prendere perché una scoliosi lombare anche più in generale in ambito calistenica allora il discorso è che il lavoro a carico naturale non è che pone eccessivamente stress sulla colonna e se la tua scoliosi non è del tipo che sei piegato lateralmente a 90 gradi in realtà se è una cosa sufficientemente accettabile e questo può dire l'ortopedico la tua struttura fisica si è adattata per rendere la colonna stabile questo è il motivo per cui c'è gente con la scoliosi che stacca 200 chili o che fa squat con 200 chili potenzialmente quella persona lì secondo alcune persone non dovrebbe tirare su neanche 10 chili ma che a meno che la persona non sia piegata su se stessa come un omino di gomma si è adattata per poter gestire un certo tipo di carichi si tratta di vedere se questi trattamenti effettivamente possono aggravarsi o possono incidere negativamente su tutto il resto del corpo simone monte 96 le buche stretche mobili di milleto può aiutare a essere più flessibile sì quelle buche state realizzate in collaborazione con un bel con alberto marra che è uno delle persone dei tecnici di calistenici migliori d'italia lui lavora a lecce e quindi in assoluto si può essere estremamente utile tonio papalepore come allenare la fase di transizione del muscle up per nella fase di transizione del muscle up ci sono tantissimi esercizi che si possono fare il problema è che buttarteli dietro uno dopo l'altro significherebbe darti potenzialmente una strada che può farti del male perché gli esercizi se non sono fatti con il momento giusto con la tecnica giusta possono andare a infiammare i tricipiti che non è una cosa divertente sicuramente i tiger band push up quello fatto a terra è un ottimo modo per andare la transizione le russian deep sono un ottimo modo per andare la transizione le russian deep fatte con le gambe in squadra sono un ottimo modo per andare la transizione tutto questo lavoro c'è nella mia video guida nel mio video corso per il muscle up e addirittura non solo c'è ma ti dico anche in che ordine farlo quindi più di così benuz gu quali testi consigli per farsi un'idea siccome impostare i propri allenamenti allora se parliamo di calisthenic al momento non c'è nulla ok in italiano che io ti consiglierei io non ho ancora scritto un libro quindi per il momento bisogna aspettare il mio consiglio è prendere un qualsiasi libro che parla della programmazione e priorizzazione dell'allenamento quindi quello di di buzichelli carlo oppure che è quello più famoso che parla di come organizzare gli allenamenti oppure anche quello di zatriowski che è la che tratta dell'allenamento della forza sostanzialmente o in generale se vuoi una linea guida un po più marcata e pratiche calistheniche se tu guardi come è strutturata la mia guida per principiante di calisthenic quello è il modo che io utilizzo da 8 9 anni a questa parte su praticamente tutti i miei allievi portandomi tutti i risultati che ho avuto finora quindi parliamo di croce parliamo di planche front lever che è una cosa più semplice che viene appresa praticamente nel breve tempo e back lever trazione un braccio piegamenti in verticale tutte cose che io ho allenato con una struttura semplicissima quindi un esercizio che si fa due volte alla settimana progressioni lineari nell'aumento delle ripetizioni delle serie nient'altro niente di complesso notarianning venendo trovati una volta al mese seguendo i tuoi video corsi si può fare un buon lavoro sì assolutamente cioè non è che farsi seguire da me vuol dire per forza dover venire due tre volte alla settimana il 100 per cento delle persone che seguo io normalmente viene una volta al mese semplice quindi io do un programma di allenamento che ha successo di genere la durata di un mese e dopo ci si ritrova per per valutare cosa c'è da cambiare e se sei interessato sul mio sito www.alessandromanente.it c'è il mio modulo di contatto e mi contatti da lì carone donato indicazioni su come avere braccia grosse come avere braccia grosse intanto genetica perché per esempio l'inserzione del bicipite cioè se avere tendine corto tendine lungo quella genetica cioè se tu guardi per esempio i bicipiti di andrà la rosa non è che andrà la rosa dopato per esempio sulle braccia andrà la rosa all'inserzione del tendine che sicuramente più piccola cioè il muscolo che si inserisce molto vicino al gomito quindi quando lo tira c'è proprio più massa diventa più grosso ok se guardi il mio invece il mio bicipite è già leggermente un po' più spostato non è proprio aderente al gomito quindi quella è una cosa genetica seconda cosa mangiare devi essere in ipercalorica per mettere su massa magra e terza cosa ti devi allenare con criterio quindi volume intensità esercizi e che devono essere stimolare il muscolo da tutti gli angoli perché logicamente ad angolo diverso ed esercizio diverso ci sono solamente alcune fibre che vengono coinvolte maggiormente rispetto ad altre perché l'attivazione delle unità motorie può variare in base allo schema motorio che viene utilizzato e poi sostanzialmente giocare su alcune cose come per esempio andare in maggior stiramento su entrambi gli angoli quindi sul bicipite per esempio andare in estensione di spalle poi in estensione di gomito o sui tricipiti andare in flessione di spalle poi in flessione di gomito e via dicendo in genere se non sai come fare è l'approccio bodybuilding quello che funziona quindi una persona che è specializzata in quello sarebbe l'ideale giuseppe gioiello hai fatto il video sui tricipiti spacca bicipiti adesso uno per le spalle ci sta ma in realtà il discorso è che per i bicipiti non dico che è quasi più semplice è più facile nel senso che è puoi giocare un pochino su quella che sono le articolazioni coinvolte perché alla fine i bicipiti è biarticolare quindi gioco sul portale in prestiramento oppure portale in pre accorciamento oppure portare in prestiramento un capo portare in prestiramento quell'altro quindi gioco su quelle cose la spalla la spalla alla fine è monarticolare quindi al di là di dire giocare anche lì un po' in stiramento non è che si può fare tanto altro di più come sempre ci deve essere un esercizio che la sollecita molto su carichi alti come per esempio i piegamenti in verticale o le dip e poi gli esercizi accessori come per esempio le alzate laterali o il lavoro per del torio di posteriore cercando sempre ecco di avere un range di movimento completo che ahimè può essere determinato anche della mobilità articolare frank montemurro sv migliorare la mobilità per l'elsit e la strada e quali esercizi fare se vai sul mio sito sul mio canale youtube e cerchi il migliore esercizio per i bicipiti femorali ottieni quello per l'elsit se tu scrivi il migliore esercizio per la divaricata frontale ottieni quello per fare la spaccata e poi le due cose ovviamente le devi combinare se invece vai sul mio sito e vai proprio nella sezione femorali aduttori nella parte mobilità lì sono tutti catalogati per muscolo quindi lì addirittura meglio ho uno sempre a frank montemurro ho uno scompenso tra le due spalle che lavoro monarticolare posso fare nessuno ok quindi questo è un concetto che sosteneva anche zatriowski cioè il fatto che se tu hai uno squilibrio destra e sinistra non dovresti fare un lavoro solo destra solo sinistra perché semplicemente il corpo rinforza secondo lo schema motorio su un lavoro monolaterale invece il problema è che lo squilibrio si presenta nella bilateralità quindi prima di fare questo devo capire a cosa è dovuto lo squilibrio ed eventualmente adottare una didattica dove io non presento lo squilibrio e piuttosto rinforzare quella mentre risolvo anche il problema vado a lavorare monolateralmente solamente se vedo che il contributo alla simmetria da parte di qualche muscolo è elevatissimo ti faccio un esempio se fai una trazione e sali asimmetrico perché ti hanno asportato un pezzo di bicipite è ovvio che magari penso a rinforzare gli altri pezzi di bicipite quello è il discorso ok ma se invece hai una simmetria e non hai questo tipo di problema al bicipite cioè ce l'hai tutto piuttosto vado a scalare cercare una variante dove la simmetria non c'è e lavoro su quella mentre magari cerco di capire se la simmetria è dovuta a range di movimento limitati eccessive tensioni e via dicendo ruolo di isometria e fini dell'ipertrofia vale est dipende dal tipo di isometria dipende da dove viene fatta c'è chi sostiene che l'isometria possa modificare l'architettura del muscolo ma in una recente review del 2019 dove trattano in modo approfondito il concetto delle isometrie sostengono che in realtà questa cosa qua non è sufficientemente giustificata e dimostrata e quindi non può essere considerata valida e sicuramente quello che fa la differenza sono le isometrie nel punto di massimo allungamento perché si sostiene che la tensione continua lavori a livello dei filamenti di tessuti connettivi come per esempio la titina e altri componenti del muscolo che se sottopostano eccessiva tensione perché alla fine è quello che fa la differenza proprio la tensione meccanica e si produce un adattamento ipertrofico quindi direi le isometrie sono importanti però più importanza nella produzione di massimo allungamento che è determinata poi dalla tua mobilità articolare quindi se non ce l'hai più di tanto allungamento non c'è e sicuramente poi dipende dall'esercizio ci sono esercizi dove la biarticolarità diventa abbinata all'allungamento su entrambi le articolazioni diventano il fattore chiave per produrre un aumento dell'ipertrofia basta che pensi ai bicipiti dei ginnasti e quindi in quel caso vale la pena ragionare anche in termini di isometrie buon ragazzi ho finito non so neanche quanto è durato il video sicuramente un bel po e adesso lo dovrei caricare nei prossimi giorni ciao a tutti